Buongiorno ragazze Stiamo andando a Cosmoprofa, siamo tutti e due emozionati Non vedrò di arrivare a quanta gente ci sarà Cia? Cosa stavi dicendo? Dai, stasso parla Noi vogliamo sapere cosa vuole dire Un po' di vita Un po' di vita Un po' di vita Un po' di vite Siamo tutti e qui Siamo tutti e qui Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.